Per quanto riguarda il vino buono per una volta che potevi il cuore? Il vino non resta perfetto per sempre. Tutti i vini iniziano a cambiare quando si sono aperti. Anche nel primo giorno, il gusto non è lo stesso. Perché importa? Perché quando vogliamo piacere un vino rosso, o avere due vini di diversi vini con i nostri amici nonostante, nonostante. Con Al Bicchiere, il dispensatore di smart wine, non devi più dare. E questo glass, servito a la temperatura giusta, sarà perfetto. Inoltre, come mai avessi l'avessi. Cada vino di selezione è realizzata per essere piacere a una temperatura precisa. È l'unico modo per uscire tutti gli aromati e le fasi che ogni vino può offrire. Come si arriva in un vino diretto. In il nostro casa, tutti i vini sono i stessi. Il rato è il rato, il rato è il rato, il rato è il rato. Il rato è il rato, il rato è il rato. Il rato è il rato è il rato. Il rato è il rato, il rato è il rato. Ma se preferisci una temperatura diversa, puoi aggiungere il rato con l'app. Puoi scadere il vino con l'app. Puoi scadere il vino per essere pronti per quando ritorni da l'office, per esempio, e mantenere i vostri vini in controllo. Alexa, cosa ti suggerisci per oggi? C'è il San Giovanni che è presto. Albi knows when your stock is running low and it will ensure you will never run out of it. You can change wine in 5 seconds, during the same dinner, even for a single glass. Because then you can forget it for the next 6 months. And without service costs, you no longer have to buy gas refills and spare needles. You only pay what you drink and you can preserve all your wines and not just the special ones. The problem of open wine is the container, which being rigid, it allows the wine to always be in contact with oxygen and starts the oxidation process. The only solution is to use a flexible container that always has the shape of the remaining wine. And you will be able to open any bottle and preserve it easily, with the smart wine bags. We had our community try the first prototypes and the feedback was fantastic. We wanted to create a professional device available to everyone. Support us now and start enjoying every glass of wine like you have never done before. Cheers!